Secondo sciopero nazionale dei lavoratori appalti ferroviari indetto per questa mattina. Il settore è stato colpito negli ultimi anni da una pesante crisi con effetti occupazionali negativi e parte delle responsabilità ricadono anche sulle committenti del gruppo Ferrovie dello Stato. Alla stazione di Siracusa anche gli operatori del settore insieme al sindacato in campo per scioperare. Il segretario del Filti CGL, vero uccello, oggi qui accanto ai lavoratori per andare a evidenziare come sono stati penalizzati questi lavoratori e perché oggi hanno deciso di scioperare? È uno sciopero nazionale che riguarda tutto il settore degli appalti ferroviari. Questi lavoratori effettuano servizi di pulizia treni interni ed esterni, quindi lavaggio, attrezzaggio dei treni e quant'altro. Ferrovie dello Stato, con i cambi, continui cambi appalti, effettua degli appalti al massimo ribasso. Quindi con la nuova normativa della chiusura del contratto di solidarietà questi lavoratori vengono messi per strada, subentrano ai suberidi personali e licenziamenti. Nel nostro territorio noi abbiamo oggi la Mondus che ha in tutta la Sicilia attivato 52 licenziamenti. A Siracusa già 5 hanno la lettera di licenziamento. Noi non possiamo permettere tutto questo. Il sistema di fatto non può permettere a questi lavoratori di buttare per strada delle famiglie. Chiediamo che questo sistema riprenda nel giusto modo, senza questo ricatto occupazionale e senza il rischio di licenziamento. Quali sono le problematiche che si vanno ad affrontare? In pratica le problematiche sono occupazionali. Dal punto di vista occupazionale, specialmente nel territorio di Siracusa, pur avendo un serbatoio di utenza molto profilo, specialmente nella zona nostra, veniamo a essere riduttivi per quanto riguarda i servizi. Perciò l'utenza chiede, ma i servizi non ci sono. Credo che facendo questo bilancio, credo che il problema sarà risolto per quanto riguarda Siracusa. Poi il problema diventa a livello nazionale, quello è un altro per quanto riguarda gli appalti. Oggi state scioperando. Per quanto tempo ancora volete scioperare? E quindi cosa vi aspettate? Con che risultati? Se non ci sarà risultato, credo che sarà all chance lo scioperare.